Sistema Involcro, l'involcro efficiente e di design. Si è parlato di questo il 13 giugno 2018 a Venezia Mestre per un workshop organizzato dal gruppo Sistema Involcro. Cinque aziende che fanno parte della filiera dell'involcro edilizio che si sono messe insieme per raccontare in un tour in quattro città italiane le ultime novità in merito a quella che è la pelle della casa, dalla parete ventilata fino all'efficientamento energetico passando per la qualità dell'aria con la ventilazione meccanica controllata. Una giornata davvero intensa, vediamo. Una partecipazione importante, una sala gremita per quello che era la capienza e quindi abbiamo trattato un po' di temi credo molto interessanti dal punto di vista proprio di nuovi sistemi, di efficientamento di quelli che possono essere gli edifici. Per quello che ci riguarda come meal group abbiamo ovviamente dato focus a quello che è il discorso pelle, rivestimento, quindi un materiale che è il grass porcellanato che ha determinate caratteristiche che sicuramente permettono di proteggere, di creare uno schermo all'edificio nel contempo di conferire un design, un'estetica che possa valorizzare l'edificio e l'immobile stesso. Quindi con gli architetti c'è direi un duplice canale di comunicazione sia sulle parti tecniche, quindi come agganciamo le piastrelle, quanto sono garantite a livello di tenuta e di resistenza e quali possono essere le opzioni estetiche e cromatiche perché come professionisti e progettisti devono ovviamente dare anche un aspetto estetico di un certo tipo. Grazie a tutti.